Adesso o mai più, il tempo sta per scadere, il futuro del Barletta dovrà delinearsi probabilmente entro lunedì prossimo. In realtà c'è poco da trattare perché, come ha ribadito a più riprese Mario Di Miccoli, il Barletta non ha nessun valore economico. Diverse in ogni caso le soluzioni sul tavolo. Una porta ad una cordata tutta barlettana che vorrebbe rilevare l'intero pacchetto senza l'attuale presidente. Nessun compromesso dunque per la controparte che punta a scalare le gerarchie senza fare completamente tabula rasa. Un segnale di continuità infatti potrebbe arrivare dalla riconferma di alcuni dirigenti già visti in sella all'organigramma bianco-rosso. C'è massimo riservo sui nomi ma tra i protagonisti potrebbero esserci sia vecchie conoscenze, in particolare alcuni imprenditori già visti all'ombra di Eraclio nel recente passato, che volti nuovi. Il futuro del Barletta però si gioca anche su altri tavoli che vanno oltre il recinto cittadino, anche se al momento sembra non esserci nulla di concreto con un imprenditore barise che negli scorsi giorni avrebbe chiesto informazioni senza approfondire la questione. Discorso pressoché identico per la pista che porta in Campania. Dopo le schermaglie di questi giorni intanto Mario Di Miccoli e Francesco Di Vittorio sono stati fotografati in compagnia di Francesco Farina. Pomo della discordia, il silenzio stampa annunciato dal presidente nella mattinata di venerdì che ha generato le perplessità del vicepresidente. La distanza tra le parti sembra incolmabile ma c'è comunque voglia di lavorare per il bene comune, ovvero il Barletta. Tutto da scrivere invece il futuro di Francesco Farina, il tecnico, non ha mai chiuso la porta al Barletta. La sua permanenza tuttavia è legata sia alle ambizioni con cui ripartirà la squadra nella prossima stagione che ai piani della società. Una panchina, quella bianco-rossa che fa gola a tutti gli allenatori. Diverse le candidature spontanee ma ogni discorso è inevitabilmente rimandato.